Ciao a tutti, brevissimo video per dire che la challenge che cosa sto facendo a casa è conclusa, ce ne sarà sicuramente un'altra nel pomeriggio e grazie a tutti i ragazzi, le ragazze che hanno partecipato i video sono tutti bellissimi, però il vincitore bisognava appunto individuarlo, premiarlo e il video più completo è anche l'ultimo che è arrivato quindi il diploma di vincitrice va alla nostra Valeria Vidotto perché nel video appunto ci sono diversi momenti in cui racconta come sta trascorrendo la sua giornata ma non preoccupatevi, ci saranno molte altre sfide da vincere per il momento questo è tutto, ciao!